Eccoci di nuovo insieme in diretta in questo sabato mattina. Vogliamo idealmente andare a Vieste dove da lunedì prenderà il via la settima edizione della settimana dell'olio. Dal 28 agosto al 1 settembre, potremmo dire, nella capitale del turismo pugliese, sul nostro Gargano, che è Vieste. Siamo collegati via Skype con Sabrina Pupillo, tecnologa alimentare, assaggiatrice, professionista di olio, a cui è stata affidata la direzione organizzativa di questa settimana. Buongiorno Sabrina, benvenuta. Buongiorno. Perdonaci, ti abbiamo buttato giù dal letto in questo sabato mattina, ma immagino ci sia davvero tanto da fare per l'ultima messa di questo importante evento. Senti, ci racconti che cos'è la settimana dell'olio? Certo, la settimana dell'olio è un evento che ha diverse finalità. Ha la finalità sia di promuovere l'olio extravergine di oliva e quindi all'interno del territorio viestano, ma ha anche la finalità di creare, di fare formazione, creare delle reti tra i produttori in modo da essere sempre al passo, quindi per quanto riguarda i produttori, poter migliorare sempre le proprie produzioni anche confrontandosi con altre realtà. Quindi è un evento che accompagna sia i visitatori, quindi il grande pubblico, alla scoperta dell'extravergine, ma che dà delle possibilità anche ai produttori, ai produttori stessi, di poter aggiungere dei tasselli di conoscenza a quello che è già il loro background, le conoscenze che hanno già in campo oleario. Una cosa importante che volevo sottolineare, che appunto come lei ha detto, siamo alla settima edizione e questo evento è possibile grazie a un'intuizione dell'assessore Carlino, l'assessore all'agricoltura del Comune di Vieste, che appunto sette anni fa ha avuto questa idea di mettere in atto una settimana dedicata all'olio e quindi la supporta con tutto il Comune di Vieste, con l'amministrazione comunale. Bene, lo hai chiamato in causa l'assessore all'agricoltura del Comune di Vieste, Dario Carlino. Abbiamo appunto una sua battuta proprio riguardo la settimana dell'olio, ascoltiamolo. La settima edizione della settimana dell'olio a Vieste è uno di quegli appuntamenti importanti della nostra programmazione estiva. Si basa sull'esaltare quello che è il prodotto principe del nostro territorio, della nostra agricoltura e della nostra economia. L'olio extravergine d'oliva è stata sempre una produzione molto abbondante del territorio su Vieste, ma negli ultimi anni, grazie alla settimana dell'olio, sta basando soprattutto sulla qualità di questo prodotto. Lo stiamo facendo attraverso queste iniziative e anche altre iniziative che con il supporto di professionisti del nostro territorio e delle aziende agricole e dei frantoi, stiamo riuscendo a dare un target diverso al prodotto olio. L'amministrazione Nobiletti che con il mio assessorato ha investito tantissimo in questa iniziativa e negli ultimi anni sta portando veramente dei grossi risultati. Finalmente l'olioa organica e quindi il nostro prodotto, la nostra oliva, sta entrando anche all'interno di guide nazionali e internazionali e quindi questo ci riempie d'orgoglio e ci fa capire che siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi che sono quelli della qualità del nostro prodotto. E grazie all'assessore all'agricoltura del Comune di Vieste, Dario Carlino, potremmo dire Sabrina che l'olio extravergine d'oliva è una cosa seria. Una curiosità, ti ho presentato come tecnologa alimentare, quale sei anche assaggiatrice, professionista di olio. Ci spieghi che cosa fa un'assaggiatrice di olio? Sì, allora l'assaggiatore di olio, va fatta prima una premessa. L'olio è l'unico prodotto agroalimentare per il quale è previsto l'assaggio da parte di professionisti anche per la sua classificazione merceologica, in quanto la legge prevede che un extravergine può ritenersi tale, può essere definito tale, oltre che per il rispetto di determinati, di vari parametri chimici, anche all'analisi sensoriale, quindi all'assaggio non deve presentare difetti. Per questo motivo ci sono dei gruppi di assaggio, quindi dei panel, riconosciuti dal Ministero che si occupano di assaggiare l'olio per classificarlo dal punto di vista merceologico, quindi per definire se è un extravergine oppure non lo è. Ci sono panel professionali, panel ufficiali, poi andiamo più nel tecnico, però quindi l'assaggiatore professionista opera all'interno dei panel per la definizione, la classificazione merceologica degli oli, ma poi ci sono tante altre sfaccettature per l'assaggiatore, attività di divulgazione, di formazione sia per i consumatori, verso i consumatori che verso i produttori, quindi gli operatori del settore. Ci sono diverse sfaccettature nel lavorare come assaggiatore, quindi dipende poi anche dalle proprie conoscenze in ambito oliario a tutto tondo e anche attraverso le proprie sensibilità. Ecco, grazie appunto per quello che ci hai spiegato. Stiamo anche vedendo delle immagini dell'edizione 2022 della settimana dell'olio ADS. Non abbiamo tempo per elencare tutti gli appuntamenti, ma ti senti di segnalarcene un paio magari? Non voglio… giustamente non vuole dire tutti perché sono tantissimi, sono oltre 20 appuntamenti. Per, diciamo, tra quelli diretti al pubblico, oltre agli eventi che ci saranno la sera a Marina Piccola, consiglio di affrettarsi per la prenotazione, perché sono posti limitati comunque, per la prenotazione del concerto in Oliveto, che è un evento a cui teniamo tanto, perché lo facciamo… era nato con un produttore viestano che ci ha lasciato da qualche anno e a cui eravamo molto legati e lo facciamo all'interno del suo Oliveto, è nato così, è uno degli appuntamenti presenti da sempre nella settimana dell'olio ed è molto affascinante, perché veramente si ritrova la pace in un Oliveto con la musica classica. Poi ci sono tantissimi appuntamenti, quindi per chi è più interessato alla parte degli assaggi, consiglio di prenotare gli assaggi e gli incontri a tu per tu con i produttori, quindi con produttori che vengono anche da altre parti della Puglia o da altre regioni e con anche gli assaggi in piazza, quindi per chi vuole approfondire la conoscenza del… avere poi la capacità di iniziare a riconoscere un vero extravergine. Oppure quello che si è visto adesso nelle immagini è l'abbinamento olio-cibo con un sommelier dell'olio, è anche un aspetto molto interessante perché consente di capire come l'olio va a cambiare le caratteristiche di un piatto, quindi come abbinare un giusto olio, il giusto olio a seconda della tipologia di piatto che abbiamo davanti. Grazie alle tue parole, anche grazie a queste immagini ci è venuto davvero voglia di un pezzo di pane casereccio, magari bruschettato con un filo d'olio extravergine d'oliva. Come dicevamo appunto in apertura Sabrina si tratta della settima edizione, cinque giorni, appuntamenti, mercatini, assaggi, spettacoli, degustazioni, laboratori e voglio concludere innanzitutto ricordando dal 28 agosto, quindi si parte lunedì fino al primo settembre a Vieste, quindi sul nostro bel Gargano, posso chiederti proprio in conclusione, dacci una dritta, come ci accorgiamo? Non so che magari è difficile, però noi comuni mortali che non siamo magari assaggiatori di olio, non abbiamo come dire gli strumenti per capire se un olio è buono o meno, però dacci una dritta per capire se davvero un olio è buono. Come hai detto tu è difficile senza avere i nasi reciproci a disposizione con l'olio davanti, però in ogni caso andando per via generale l'olio deve profumare, quindi deve avere un profumo di oliva, di vegetale e non deve avere degli odori estrani che non appartengono appunto all'oliva e al vegetale, quindi che non siano peschi. E poi un buon olio deve avere anche delle note di amaro e piccante perché sono indice della presenza di antiossidanti, quindi vuol dire che è un olio che ha quelle caratteristiche salutistiche che ci fanno bene e che lo differenziano da altre tipologie di oli presenti sul mercato. E allora direi che hanno fatto bene ad affidarti la direzione artistica della settimana dell'olio a Vieste perché ne sai veramente tanto, cara Sabrina. Sabrina Pupillo, tecnologa alimentare, assaggiatrice, professionista di olio che ci ha parlato davvero in maniera magistrale di questo appuntamento a Vieste, lo ricordiamo, dal 28 agosto al primo settembre, settimana dell'olio. Grazie per essere stata con noi per scoprire l'extravergine, soprattutto ecco, possiamo capire quando è buono e quando non lo è. Perfetto, allora speriamo di essere, ci speriamo che siano anche tanti i visitatori che magari saranno, sono in vacanza o lo saranno la prossima settimana sul Gargano, a Vieste per la settimana dell'olio. Grazie e buon lavoro, cara Sabrina. Grazie. Ciao, alla prossima occasione. E allora, grazie alla collega Danila Paradiso che riesce sempre a creare questi collegamenti. Grazie ancora, noi ci fermiamo, andiamo subito in pubblicità e poi torneremo per presentarvi un libro che scalda il cuore. State con noi. Grazie.